Cosa facciamo dall'inizio alla fine questa? Si, ma ora è tutta una tirata Allora, voglio fare il video Aspetta Sveva Voglio fare il video Vai fatto? Vai Sveva 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 Aspetta Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info andiamo Grazie a tutti Mi sono storto in aria Grazie a tutti 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 Tendiamo spazio Grazie a tutti 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 E andiamo